Civita Quana, 92 anni fa la cottura degli arossicini per la prima volta in una foto d'epoca, scatto pubblicato sul libro Gli Abruzzi dei contadini, 1923-1930, Textus Edizioni, foto scattata davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie di Civita Quana, era il 12 ottobre del 1930, si trattava di un giorno di festa in paese, ricordato dagli autori del libro. Una copia del libro Gli Abruzzi dei contadini è conservata nel Museo delle Genti di Pescara. Il sindaco protempore del comune di Civita Quana ricorda con la cittadinanza il succoso 92esimo anniversario del famoso scatto che ha immortalato per la prima volta storicamente l'antica cottura degli arossicini in Abruzzo. Questa foto è diventata un simbolo della cultura abruzzese, ormai da diversi anni ha creato interesse e partecipazione soprattutto nella rievocazione storica che viene organizzata annualmente dalla famiglia Ginestrino di Civita Quana che ha riconosciuto ufficialmente nei propri avi i protagonisti di questo ritratto storico. E quest'anno la tradizione è tornata a vivere a seguito del venir meno delle restrizioni dovute alla pandemia.